Musica Anche se non mettiamo il microfono ci sentite ugualmente Bene Permettetemi di dirvi grazie di cuore perché il fatto che abbiate perso una serata per venire e il fatto che viate anche impegnato un po' di tempo per quello vuol dire che avete dato valore a questa idea che è sorta nell'ambito di queste celebrazioni per i 950 anni della nostra cattedrale L'idea del campanile a me è sempre piaciuta l'avevo già detta qualche volta scherzando perché questo campanile svetta davvero su tutta la città venendo giù da Ponzone si vede, venendo giù da Mojurano si vede, venendo giù dalle alture anche da terzo si vede il campanile del Duomo ecco perché come presenza tra le case della gente non solo come segno religioso ma anche come segno simbolico mi è sempre sembrato qualcosa di interessante e di bello ultimamente poi una suora, la sua Michelina, ha detto che il campanile oltre che essere lì è anche una voce che suona le campane le ore e questa mi è sembrata una cosa bella così le persone sentono il suono delle campane, il suono delle ore e a volte le campane a qualcuno danno fastidio ad altri invece richiamano così il segno delle cose più alte questo campanile che fa parte della costruzione della cattedrale del 1400 ma io su questo non mi dilungo perché poi prima della chiusura di questo momento breve non facciamo tanti discorsi vi darò un'altra informazione concreta e precisa che anche quella mi sembra molto bella e che perciò propongo a tutti e allora grazie a tutti voi che siete qui presenti grazie a tutti quelli che hanno partecipato i partecipanti ufficiali, accolti nei tempi sono stati 32 e quindi sono un numero notevole per un'iniziativa parrocchiale però forse anche per altre iniziative di questo genere numerosi sono gli acquesi tanti siete voi della comunità parrocchiale ma devo sottolineare anche la presenza di una numerosa famiglia di Alice con tutta la fila con i bambini piccoli devo sottolineare la presenza anche di una copia di Silvano dico bene e Basaluzzo Silvano 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 d'Orba Silvano d'Orba e Basaluzzo quindi questo è un qualche cosa che ci fa dire un pochettino che i confini si sono un pochettino allargati per questa ragione dico grazie a tutti c'è poi il discorso del fatto che abbiamo voluto aprire il concorso sia agli adulti che ai bambini e ai ragazzi e questo perché escludendo le persone gli esperti, i tecnici questa non è una mostra internazionale è proprio per favorire anche l'interesse e la partecipazione allora i bambini anche del catechismo con Antonietta e compagnia bella hanno partecipato anche alle foto e in questo devo dire anche grazie a degli insegnanti e ai dirigenti degli insegnanti che hanno raccolto le opere dei ragazzi non vedo qui gli insegnanti della scuola della cosiddetta scuola media mentre della scuola elementare alcune foto sono arrivate proprio ieri non sono certo in concorso mi è spiaciuto non poterle preparare come le altre però ho voluto in qualche modo metterle in fondo in modo che almeno chi le ha fatte chi le ha fatte le veda bravo mi sembra una cosa giusta in realtà adesso poi qui cambio un po' di discorso in realtà la giuria era ed è stata molto severa io ero presente ma non avevo voto e non avevo parola in giuria come persona interessata mentre la giuria era composta come aiuto dalla qui presente Simona Braganiolo dico bene? dal archivista diocesano Walter Baglietto e dal fotografo Enrico Minasso questa era la commissione giudicatrice dei premi è stata una commissione molto severa hanno scelto loro da chi ha presentato anche due due foto come era possibile fare nel bando di concorso hanno scelto loro quella che è esposta insieme a tutte le altre e l'indicazione dei premi è stata fatta alla presenza di queste quattro persone dico bene? sì infatti vuoi aggiungere qualche cosa? breve? no sì lei dice che non si sente di parlare a me le parole non mancano diciamo che un giudizzo tecnico ovviamente Minasso lo facendo un fotografo non abbiamo giudicato io dal punto di vista estetico visto che è quello che vi confete poi ovviamente tecnicamente abbiamo giudicato anche in grado alla tecnica cioè si è giudicato in base alla tecnica in base alle idee in base anche alla voluta attenzione a dei particolari e pertanto questa è stata un po' la valutazione che è stata data detto questo troverete adesso poi passando da quella porta troveremo le foto tutte esposte nell'ordine troviamo prima le prime due classificate sezione adulti e sezione ragazzi poi le seconde classificate le terze classificate e le altre messe in un ordine random fino in fondo al nostro chiostro oltretutto la location come si dice è una location molto simpatica molto carina in un luogo anche molto bello questa esposizione rimarrà fino a domenica 4 di giugno così come è stato detto e scritto e come è pubblicato anche dai manifesti aperta nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19 in modo che se qualcuno vuol venire parenti, amici, conoscenti possa vedere tutto questo ecco i premi i premi adesso li consegniamo in base alla valutazione che la commissione ha fatto però mi permettete di capovolgere di capovolgere la situazione io vorrei riconoscere a tutti i partecipanti un premio vorrei dare a tutti un premio proprio per dire grazie non è una cosa eccezionale però ritengo che per chi ancora non ce l'abbia sia una cosa utile e bella lascio a tutti i partecipanti una guida della cattedrale che è una piccola opera che da 5-6 anni abbiamo fatto fare serve soprattutto per i turisti ma serve anche per chi voglia come dire conoscere sempre più a fondo la cattedrale e questo allora è il dono che io desidero fare a tutti prima ancora della premiazione allora a questo riguardo faccio una parentesi per dire come il discorso della nostra cattedrale in questo 950esimo anniversario dalla fondazione sarà sottolineato anche con una iniziativa intitolata cattedrale di sera sono previste tre serate di venerdì l'ultimo venerdì di giugno di luglio e di agosto nel quale nei quali con una visita alla cattedrale serena pacifica e calma mettiamo insieme aspetti diversi che la nostra cattedrale ci offre qui vuoi dire una parola tu? no no è un semplice fatto no è che non ho ancora ben chiaro nell'organizzazione un dettaglio se la visita sarà per tutte le tre giornate identica o se ogni guida di cui una è la sottoscritta parlerà di un argomento particolare questo comunque saranno appunto tre guide distinte che in tre momenti porteranno a illustrare vediamo che cosa ovviamente in alternativa non abbiamo oggettivamente è un pensiero che non mi è venuto per me era la stessa la stessa anche secondo me lo stesso argomento sì infatti in modo da poter alternare anche i momenti delle persone cosette non solo gli acquesi ma anche il fatto stesso che ci siano persone diverse esprime già come si svolgerà questa visita sapete lo faccio anche perché ho sentito che tanti acquesi per esempio non hanno mai visto il trittico e allora dico non possiamo avere un'opera d'arte così bella senza averla vista e allora in questa cattedrale in queste visite alla cattedrale partiremo dall'esterno ci sarà un momento di spiegazione della storia della facciata della piazza ed entrando in cattedrale ci si siede e si ascoltano due brani musicali organistici nel mentre uno può guardare gli affreschi e può anche sentire un pochettino la spiritualità della chiesa perché non è solo un museo ma è anche un luogo sacro terminato questa parte musicale la guida che è già intervenuta all'esterno darà una panoramica sia della struttura della cattedrale sia dei vari affreschi almeno quelli della navata centrale dopo questo si scenderà in cripta anche lì c'è il momento per sedersi sarà proclamato un brano o due di ascolto di parole o un brano della Bibbia o un brano di qualche autore sacro che permetta anche di così di approfondire un pochettino il tema della spiritualità dopodiché la guida darà spiegazione della cripta si salirà poi in presbiterio dove voi laici non salite mai ci saliremo ci siederemo e si ascolteranno altri due brani musicali dei nostri organisti dopodiché la guida spiegherà il transetto l'abside e tutte le altre cose l'ultimo e il penultimo momento ci porterà in sacrestia e ci porterà alla Madonna del santuario di Montserrat di Bartolomeo Chimeco nel trittico e qui l'idea sarebbe di completare iniziare meglio o terminare questo lo vedremo questa visita con il canto dell'Ave Maria il canto per evitare che sia una preghiera almeno è un'espressione di spiritualità ci sarà poi la spiegazione e si uscirà all'esterno poi nei nei luoghi di gioco della parrocchia da cui si vedrà di notte l'abside la parte originale della cattedrale e anche qui una breve spiegazione dopo di questo dopodiché un breve ristoro un breve rinfresco mi sembra una cosa una cosa però attenzione io non voglio gli applausi desidero che voi diventiate passaparola perché la cosa diventi anche un'attività della comunità parrocchiale e di tutti noi ecco questo l'ultimo ho già le guide sono Semona Bragagnolo Leonello Leonello Archetti Maestri e Finuccia Oldrini tre delle guide che si susseguono qui sempre nel nostro duomo e gli organisti a loro volta saranno Paolo Cravanzola Alessandro Alessandro Minetti e Simone Buffa due giovani e il maestro della corale per il canto ho contattato Cristina Cavanna e l'anno 20 e 30 21 20 e 45 perché il titolo è Cattedrale di Sera Cattedrale di Sera arte arte storia e spirito un titolo del genere ci sarà chiaro bene bene però cominciamo col chiaro e terminiamo con lo scuro almeno due ore ma un'ora e mezza un'ora e mezza credo di sì però penso che sia che non sia tempo perso anzi che possa essere una cosa gradiva bene detto questo allora veniamo a noi e vediamo proclamo allora i vincitori che poi potete vedere potete vedere esposti ecco i vincitori riceveranno riceveranno la busta che contiene il logo del giubileo la locandina del concorso con il numero del vincitore e la busta che contiene i premi in denaro che la parrocchia il parroco e la parrocchia hanno deciso di dare come sapete il primo il vincitore riceve 200 euro il secondo riceve 100 euro e il terzo riceve 50 euro la scelta è stata fatta per incentivare e anche per dire per incoraggiare le persone a partecipare ma come ho detto tutti riceveranno un piccolo ricordo e un piccolo prezzo allora circa i vincitori della sezione ragazzi vince una ragazza che si chiama Maddalena Minelle della scuola media la seconda il secondo che però vedo assente il secondo classificato invece della sezione ragazzi è qui presente Chiara 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 tutto vieni vieni a ritirare vieni a ritirare la busta questa è la tua guarda là voi decidete con papà e mamma cosa fare dei 100 euro che vi sono stati dati e il terzo premio dei ragazzi è stato attribuito a Irene Vacca che è una ragazza che ha fatto la crisi di Mala l'anno scorso e che abita lì in via Biorci quasi nei pressi di Maria a Vittalena quelle parti questi allora sono i classificati della sezione ragazzi invece nella sezione adulti vince il primo premio qui il nome è un nome che ho attribuito io Marcello Assandri Marcello Assandri vince il primo premio porto il campanile in mezzo alle case e in mezzo al verde lo vedrete la non è ho detto che io non ho partecipato al non ho potuto dire niente testimone testimone Simona io ero presente e non mi ho detto niente quindi prego visto vieni vieni a prenderlo tu va vieni a prenderlo tu al posto al posto del nonno ecco e anche e anche l'immagine eh bene il secondo premio invece è attribuito a Maria Evola la quale è nostra è nostra vecina di casa e logicamente è come dire molto non preferita ma ma molto facilitata nella 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 c'è davanti al fotografico la prima volta va bene non c'è sempre una prima volta la prima volta grazie grazie prego e invece la la terza classificata degli adulti è Alessandra Baglio adesso però adesso diamo a tutti il ricordo della cattedrale però poi chiederei ai vincitori di fare una fotografia generale così almeno ci serve ci serve per noi e ci serve per tutti gli altri allora scendo per offrire a tutti i partecipanti allora voi l'avete la tutta a Fabio la cevuta a famiglia gennari a Graziella e a Daniela sì 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 anche anche a voi grazie piuttosto una ai bambini che hanno fatto lupet però la famiglia glielo diamo anche ai ragazzi che hanno partecipato perché mi piace che arrivi anche a loro voi ci fate abbiamo una famiglia un amore e uno a uno anche al nostro operatore uno anche al nostro operatore caratteristica è un po' fatto sperando allora che finito poche parole ricevete ancora veramente i miei ringraziamenti così per una cosa che facciamo molto semplice però di cuore è fatta con i criteri che abbiamo detto adesso entrando da quella porta possiamo vedere le foto c'è anche un pezzettino di torta due dolcetti due patatini e un bicchiere e un bicchiere non ho messo il vino no questo perché le cose belle le cose belle si 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 fanno anche in questa maniera grazie 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 se sapete di qualcun altro che ha partecipato ditegli tranquillamente che venga a tirare la seconda 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 per favore i vincitori allora i secondi noi siamo i primi i primi i secondi i primi i primi vieni vieni qua qua vicino a me bravo saluto va bene va bene bravo 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 no ci sei un bel sorriso dai un bel sorriso Mario un bel sorriso un bel sorriso ecco lì va bene grazie e dopo grazie ma chiara Elena che bein nome grazie alla parrocchia la parrocchia è contenta perché quando si parla si escono bene si è avuto tu ti apre la foto la parrocchia si guardiamo andata da la parrocchia è ferma è ferma senti qua senti qua senti qua senti qua senti qua senti qua bravo bravo L'ho esistito perché le portino, poi quella lì è stata una vicenda, lui me l'ha portata, poi io ne ho persi, in realtà c'erano, le ho fatte ristampare. Il santo è il quadro della cattedrale, perché quella casa va di là, questa è la canonica, quelle case lì di via, questa è questa, lei, questa è questa, è il barattino come altro. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.